Diamo inizio ai lavori della 68esima Assemblea di Confindustria Piacenza. Interviene per un dirizzo di saluto il Sindaco di Piacenza Paolo Dosi. Buongiorno, io ringrazio naturalmente il Presidente Bolzoni, tutti gli associati di Confindustria, in particolare il Presidente Squinzi per aver accettato l'invito ad essere qui oggi. Credo che la sua presenza faccia particolarmente bene, certo, non solo al nostro territorio, perché è un segno concreto, con una presenza così autorevole, dell'attenzione che associazioni fondamentali di categoria come Confindustria rivolgono ai territori per cercare di rispondere nel miglior modo possibile a delle emergenze che si stanno facendo sempre più soffocanti. Io non vorrei citare dati che meglio di me saprà probabilmente evocare, immagino il Presidente Bolzoni, riguardo le difficoltà del mondo del lavoro, dati che credo sui grandi numeri conosciamo tutti. Volevo molto brevemente tentare di dire quello che un'amministrazione comunale in tutte le difficoltà che vive oggi cerca di fare con interventi che mi rendo conto essere deboli, fragili nei confronti delle necessità che sono particolarmente grandi del momento. Interventi che però pur nella loro debolezza vogliono dare il segnale di un'attenzione verso la quale non possiamo permetterci di retrocedere. Siamo chiamati tutti a fare in quota parte il nostro dovere nella consapevolezza che recuperare sui temi del lavoro è l'obiettivo oggi principale su tutti i fronti. Da parte nostra abbiamo cercato in questi mesi di essere presenti anche laddove non abbiamo competenze specifiche. Il tema del lavoro è proprio uno di quei temi su cui le amministrazioni comunali non hanno indirizzi concreti di intervento. Per la prima volta ci siamo invece resi protagonisti anche all'interno di vertenze sindacali particolarmente delicate proprio perché abbiamo ritenuto che fosse questo il nostro compito anche nel momento in cui non fosse formalmente previsto. Insieme alle istituzioni locali, in particolare con la Camera di Commercio, abbiamo cercato di intrattenere rapporti sempre più stretti per arrivare ad esempio all'abbattimento dei tassi di interesse su iniziative promosse da imprese giovanili nel quadro di un accordo di garanzia con i consorzi fidi operanti sul territorio. Abbiamo sviluppato il progetto Start Cup Innovazione che è stato promosso da Piacenza Expo in collaborazione con Spinner Emilia Romagna, con la Camera di Commercio per la promozione di innovazioni e idee di impresa che saranno premiate con un supporto economico, con opportunità di formazione, con la concessione di locali e con credito agevolato. Abbiamo credo fatto un buon lavoro se è vero che delle 75 domande che sono state presentate in regione 20 provenivano da Piacenza e proprio oggi sono state pubblicate le graduatorie. Tre nostre imprese verranno premiate giovedì a Roma. È stato fondamentale il tema della semplificazione amministrativa. Ci ricordiamo tutti molto bene come l'anno scorso il Presidente Bolzoni richiamava un dato preoccupante, se ricordo bene i 48 documenti, i 48 atti che una impresa deve assolvere per poter iniziare la propria attività. Siamo passati dai 70 procedimenti online del luglio 2011 agli oltre 150 attuali attraverso un'opera analitica di intervento che ha progressivamente consentito di semplificare l'accesso e la presentazione dei documenti, percorso questo che dovrebbe essere completato entro la fine del 2014. È stato introdotto il volo virtuale in accordo con l'Agenzia delle Entrate. Anche questo spero sia un provvedimento utile a semplificare l'attività amministrativa delle imprese e anche dei privati cittadini. Il Comune ha ormai completato il processo di semplificazione sulla quasi totalità degli atti di propria competenza e sta proseguendo attivamente in confronto con gli altri enti coinvolti nei processi autorizzativi per il miglioramento delle relazioni traenti. Siamo inoltre consapevoli di dover potenziare le conferenze dei servizi per i procedimenti complessi, prassi questa ormai consolidata ma che necessita di ulteriori potenziamenti. I temi legati alle Smart Cities hanno in questi anni progressivamente preso piede e si sono estesi. In questi mesi l'amministrazione ha aderito a numerosi progetti nell'ambito del bando MIUR, del Ministero dell'Università della Ricerca, presentati da soggetti privati e da istituzioni accademiche, tutti incentrati su innovazione e ricerca per la sperimentazione di idee progettuali per le Smart Cities. Abbiamo aderito a due progetti che hanno partecipato al bando del MIUR con aziende e denti di ricerca 20 sede a Piacenza, relativi ai temi della sicurezza urbana e della distribuzione ottimale dell'energia elettrica in presenza di produzione diffusa da fonti rinnovabili. Anche a seguito dell'avvertenza Ikea abbiamo ritenuto fosse necessario riprendere un'attenzione specifica su quello che è il nostro comparto del polo logistico, riprendendo rapporti stretti sia con i soggetti proprietari delle aree sia con le aziende che sono presenti nel comparto. Sempre in tema di innovazione sono in fase di avvio i lavori per la realizzazione del tecnopolo, il primo della regione. Questo dovrebbe partire a breve e sarà uno degli obiettivi anche in termini di innovazione di particolare significato. Si sta completando l'ultima parte che dovrebbe portare all'adozione e approvazione del piano strutturale comunale. Un altro contenitore all'interno del quale si svilupperanno possibilità lavorative per interventi di ristrutturazione, rigenerazione, con la possibilità di poter avere incentivi per tutto quanto sarà l'ambito dell'efficientamento energetico. Settori questi che spero possono essere utili a far ripartire, seppure parzialmente, il settore edile che ha forse più di ogni altro subito gli effetti della crisi. Infine, un tema caro a Confindustria, il Presidente Bolzoni, le forme di collaborazione purtroppo ritardate, dilatate nel tempo per poterci trovare pronti con l'appuntamento dell'Expo 2015. Crediamo di avere ancora il tempo sufficiente per poter recuperare questi rapporti di collaborazione anche con le altre istituzioni locali. L'impegno da parte nostra naturalmente sarà massimo. Auguro a tutti un buon lavoro, auguro reciprocamente a noi di avere sempre la volontà di collaborare nel miglior modo possibile per ottenere un risultato che possa far crescere Piacenza e far vivere con maggiore ottimismo gli anni che ci attendono. Grazie e buon lavoro. Buongiorno a tutti, porto i saluti dell'amministrazione provinciale e del Presidente Trespidi che proprio in questi minuti è impegnato a Milano in un colloquio con il Ministro dei Trasporti, Lupi, colloquio che speriamo possa portare delle notizie positive anche sul collegamento veloce fra Piacenza e Milano. L'Assemblea di Confindustria Piacenza non può in questo momento così particolare non concentrare l'attenzione sul futuro dell'Italia e di tutti i soggetti che operano nel nostro Paese. Al giorno d'oggi nessuna istituzione, nessun soggetto economico e nessun ente può permettersi di mettere da parte il grido d'allarme che lanciano i lavoratori da un lato e gli imprenditori dall'altro. Ringrazio quindi il Presidente Emilio Bolzoni che con l'illustre presenza del Presidente Giorgio Squinzi ci offre questa sera la possibilità di partecipare ad un approfondimento utile per tutto il territorio piacentino. Proprio nelle scorse settimane l'osservatorio del mercato del lavoro della provincia di Piacenza ha reso disponibili i dati relativi al quarto trimestre del 2012 sull'andamento del mercato del lavoro. Sono numeri preoccupanti che impongono senza dubbio una riflessione e che confermano il perdurare della fase di difficoltà che il mercato del lavoro continua ad attraversare anche nella nostra provincia. Tutti gli indicatori utilizzati infatti risultano in speggioramento rispetto all'anno precedente. Il ricorso agli ammortizzatori sociali resta elevato, crescono i licenziamenti sia individuali che collettivi, aumentano le persone in stato di disoccupazione così come i lavoratori interessati alla cassa integrazione in deroga, diminuisce la domanda di lavoro da parte delle imprese. Il saldo tra avviamenti e cessazione infine risulta negativo di quasi 2.000 unità. Nel corso del 2012 i nuovi iscritti al centro per l'impiego della provincia di Piacenza sono stati quasi 8.000 in crescita del 7,6% rispetto all'anno precedente. Questo significa che nel 2012 si è registrato il massimo flusso di utenti nei centri per l'impiego dall'inizio della crisi ad oggi. Nel corso del 2012 in provincia di Piacenza si sono avute 46.000 assunzioni, il terziario con 33.500 movimenti copre il 72% degli avviamenti complessivi. Seguono l'industria con 6.600 avviamenti e l'agricoltura con 6.000 avviamenti. L'andamento del numero di crisi aziendali nel corso degli ultimi anni continua a mostrare la situazione di difficoltà attraversata dal sistema imprenditoriale locale. Nel 2012 sono diminuite rispetto all'anno precedente le aperture di nuove procedure di mobilità da 42 a 33, mentre sono cresciute quelle per l'ammissione della cassa integrazione straordinaria da 17 a 29. Il numero di procedure approvate nell'ultimo anno, 62, appare in linea con i livelli osservati nei tre anni precedenti. Non sembrano emergere pertanto segnali di tonazione della crisi. Più in generale insomma, analizzando i dati relativi al tessuto economico locale, se fino al 2010 si era registrata una buona tenuta del contesto occupazionale, nel 2011 e nel 2012 sono emersi segnali evidenti di un peggioramento anche piuttosto significativo. Il dato che forse preoccupa di più è dunque il calo degli occupati con la relativa crescita delle persone in cerchio di occupazione. L'obiettivo, e anche la provincia di Piacenza sta lavorando in questo senso, è quello di tornare a creare ricchezza, soprattutto spingendo l'acceleratore su alcuni punti forti. Penso innanzitutto alle esportazioni verso quei paesi che hanno meno risentito di questa crisi. Diverse in questo senso sono le azioni interprese dall'amministrazione provinciale, dalle diverse azioni di politica attiva al del lavoro finalizzate all'incontro tra domande e offerta, alla promozione dell'autoimprenditoria, con particolare riferimento a quella femminile e giovanile, al forte impegno per la formazione e per la promozione delle imprese locali al di fuori dei confini provinciali nazionali, attraverso ad esempio vetrine turistiche di rilevanza o corsi di aggiornamento per operatori economici. Fino ai diversi incontri della commissione di concertazione con associazioni di categorie e parti sociali per disegnare un preciso quadro di riferimento relativo al tema del lavoro nel territorio della nostra provincia. Vorrei infine sottolineare il ruolo di coordinamento assunto da provincia di Piacenza in vista di Expo 2015. L'amministrazione sta infatti lavorando all'interno di una cabina di resia a cui partecipano tutti i principali soggetti economici del territorio al fine di redigere per un'agenda precisa dei lavori e degli obiettivi da perseguire per l'Expo universale di Milano. Tra questi occupa senza dubbio un posto di primo piano, il progetto Autogrill territorio Piacenza, che anche grazie alla finisce collaborazione tra province e Confindustria insieme al Consorzio Piacenza Alimentare, alla Camera di Commercio e alla Fondazione di Piacenza Vigevono porterà fino a 2015 in sei stazioni autostradali nei quali passano oltre 4 milioni e mezzo di persone ogni anno l'eccellenza della nostra tradizione agroalimentare. Tutto questo senza dimenticare ovviamente l'impegno a fianco di Confindustria per la realizzazione di un collegamento veloce tra Piacenza e Milano. Istituzioni e associazioni di categoria hanno il compito in questo momento così difficile di continuare a lavorare insieme per tentare di uscire dal difficile contesto economico attuale. Grazie e buon proseguimento dei lavori. La parola al presidente di Confindustria Piacenza, Emilio Bolzoni. Questa sala vista da qui è veramente magnifica. Vi ringrazio di essere venuti qui questa sera così numerosi. Grazie di cuore. Ma prima di iniziare la mia relazione devo chiedere la vostra attenzione perché vorrei dire due parole in ricordo di Carlo Squeri. Purtroppo in questi giorni il nostro collega Carlo Squeri ci ha lasciati. Carlo Squeri ha segnato la storia dell'industria piacentina. Infatti ha segnato anche la storia della nostra associazione. Infatti è stato uno di quei piacentini che alla fine della guerra hanno creato dal nulla qui a Piacenza un'industria efficace, efficiente, di successo e con una vocazione all'internazionalizzazione. Carlo Squeri è stato determinante anche per la storia della nostra associazione. Infatti sempre alla fine della seconda guerra mondiale è stato uno dei fondatori o meglio dei rifondatori della nostra associazione. A uomini come lui la nostra associazione e la nostra città devono molto. Vi chiedo di salutarlo con un applauso. Grazie. Autorità, gentili ospiti, signore e signori, a nome degli imprenditori piacentini vi porgo un cordiale saluto oltre al mio ringraziamento per la vostra presenza alla 68esima Assemblea Ordinaria della nostra associazione. Ringrazio le autorità che ci onorano con la loro presenza e che qui rappresentano le maggiori istituzioni e magisteri della città, così come gli esponenti del mondo politico, economico e delle forze sociali. Porgo il benvenuto della nostra città al nostro graditissimo ospite di questa sera, Giorgio Squinzi, presidente della nostra associazione nazionale. Ringrazio il nostro sindaco Paolo Dosi per le sue parole e per l'ospitalità in questa splendida sala e ringrazio il nostro vicepresidente Maurizio Parma per la sua analisi. Come dicevo, questa sera ci onora della sua presenza il nostro presidente Giorgio Squinzi. Sarà molto interessante conoscere la sua analisi della situazione economica e politica che stiamo vivendo. Siamo tutti impazienti di ascoltarlo. Sono sicuro però di condividere con lui una sensazione di assoluta urgenza che sta diventando giorno per giorno sempre più imperativa. Nella prima pagina del Sole 24 ore del 10 novembre 2011 c'era scritto a caratteri cubitali, fatte presto. Eravamo immersi nella crisi del debito sovrano, con i titoli pubblici italiani al 7,25% e il governo Monti si era da poco insediato. È trascorso un anno e mezzo dall'ora, per fortuna i tassi sul debito dello Stato sono sensibilmente diminuiti, ma quel grido fate presto è diventato, se possibile, ancora più imperativo. La sensazione di urgenza è fortemente cresciuta. La crisi, da finanziaria che era, è entrata nel profondo della nostra società, fino a toccare le istituzioni, le aziende, le famiglie, le persone. Ha quindi toccato tutti quanti, ha tolto sicurezze, ha tolto prospettiva. Nella nostra città, nel nostro Paese, nella nostra Europa ci sono decisioni da prendere, azioni da compiere, utili a correggere la situazione, ma le decisioni devono essere prese adesso, le azioni devono essere compiute adesso. Ci sono fatti, ci sono dati che giustificano l'altra faccia, che giustificano questa urgenza, ne vorrei richiamare alcuni. Anzitutto è doveroso rilevare che esiste l'altra faccia della medaglia. È impressionante quanto nel mondo il 70,5% della popolazione stia sperimentando una crescita del prodotto interno lordo superiore al 3% all'anno. Gli Stati Uniti sono tornati a crescere in modo rilevante fino a raggiungere un prodotto interno lordo pari al 4,7% in più rispetto al dato precedente della crisi, rispetto al 2007, avendo quindi ampiamente recuperato gli effetti della crisi del 2008-2009. Anche la disoccupazione, sempre negli Stati Uniti, è scesa fino a raggiungere un tasso del 7,6%. Il Giappone, grazie a una politica fortemente spassiva, è tornato a crescere con forza. Questo, come è evidente, non è certamente un quadro di crisi. Anzi, si tratta probabilmente di una crescita per il mondo intero tra le più alte mai registrate. Ma se torniamo nella nostra Europa scopriamo che, nonostante la Germania abbia giocato nel migliore dei modi, la partita dell'euro beneficiandone ampiamente con crescite da paese emergente, l'area euro tutt'intera segna ancora un meno 1,6% sul prodotto interno lordo rispetto al 2007, con una diminuzione prevista nel 2013, sempre dai dati Ocse, pari allo 0,6% e con la disoccupazione che è al 12,1%. 25 milioni di disoccupati in Europa. Praticamente tutti i paesi dell'area sud vivono gravi difficoltà. La Francia è entrata tecnicamente in recessione. Anche la Germania, che ha nell'Europa il principale sbocco per i suoi prodotti, nel 2013 segnerà una crescita del prodotto interno lordo di solo lo 0,6%. Non è recessione ma basta un colpo di tosse per diventarlo. La differenza tra la nostra Europa e il resto del mondo è assolutamente impressionante. La differenza tra la terapia applicata all'economia in modo abbastanza uniforme nel resto del mondo e l'Europa è altrettanto netta. Una politica fortemente espansiva nel resto del mondo, una politica recessiva in Europa attraverso il perseguimento, a tutti i costi, del pareggio di bilancio anche in presenza di un mercato in grave difficoltà. La differenza tra gli effetti delle due politiche è sotto gli occhi di tutti. Mi chiedo cosa debba ancora accadere per arrivare a capire che negli Stati Uniti, in Giappone e in gran parte del resto del mondo la terapia espansiva ha funzionato, mentre non ha per nulla funzionato la cura applicata alla nostra Europa. Cosa aspettiamo? Qual è il numero di disoccupati che ci convincerà a cambiare se 25 milioni non sono abbastanza? Quindi prima di tutto è l'Europa che dobbiamo chiedere. Fate presto. L'Italia è purtroppo la dimostrazione di quanto recessiva sia la politica che ci è stata imposta. Sono infatti otto trimestri, uno di seguito all'altro, che la produzione industriale segna un dato negativo fino a raggiungere un meno 24,7% rispetto al 2008, un quarto del mercato che è sparito. Il prodotto interno lordo sempre rispetto al 2008 è sceso dell'8,3%. La disoccupazione è al 12% con una disoccupazione giovanile che ha raggiunto il picco del 40,5%. Siamo però considerati virtuosi perché stiamo rispettando il limite del 3% di disavanzo e siamo i secondi in Europa dopo la Germania come avanzo primario, quello prima degli interessi sul debito pubblico. Avanzo primario che è legislazione costante supererà il 4,3% nel 2015. Un record. Abbiamo fatto quasi unico in Europa il pareggio di bilancio in Costituzione. Questi dati descrivono una situazione semplicemente esplosiva. Abbiamo bisogno come dell'aria che respiriamo di una politica che punti all'efficienza del sistema riducendone i costi e gli sprechi, ma accanto a tutto questo è indispensabile una politica adeguatamente espansiva. Tutti sappiamo, parlando di efficienza del sistema Italia, quali enormi spazi di miglioramento abbiamo di fronte, tanto da farne un fattore di ottimismo per il futuro. La World Bank pubblica ogni anno il report Doing Business, con il quale analizza la facilità di fare impresa nei 185 principali paesi del mondo. L'Italia, nel rapporto relativo al 2013, è risultato, ripeto, su 185 paesi, 84esima sulla facilità di avvio di un'impresa, era 77esima l'anno precedente, 103esima sull'ottenimento dei permessi edilizi, era 96esima, 104esima per l'accesso al credito, era 98esima, 131esima per il pagamento delle imposte, eravamo 134esimi l'anno precedente, con un'aliquota fiscale totale per le aziende pari al 68,3%, 160esima sulla risoluzione delle dispute commerciali, eravamo 158esimi, con 41 fasi processuali e una durata media di 1.210 giorni. Un anno fa pensavamo che fosse difficile fare di peggio, ma ci siamo riusciti. Su quasi tutte le voci abbiamo scalato qualche posto in negativo. Ha veramente dell'incredibile il fatto che, nonostante tutto questo, il nostro paese sia ancora il secondo paese manifatturiero d'Europa. È la prova di un'impressionante capacità di competere delle nostre aziende. Pensate cosa potrebbero fare le nostre aziende se il nostro paese raggiungesse un livello di efficienza adeguato al peso economico che ha in quanto ottava economia al mondo. La conseguenza più preoccupante e più grave della situazione di scritta è nel dato già citato nella disoccupazione complessiva che ha raggiunto il 12%, con all'interno una disoccupazione giovanile che è arrivata al 4,5%. Si tratta di numeri impressionanti che racchiudono dietro al freddo dato statistico realtà private, personali, drammatiche. Persone che una per una hanno visto la loro prospettiva di vita, il loro ruolo sociale gravemente compromesso. E rimane enorme, impressionante, un elemento in più che il governo Monti si era incaricato di correggere. Il mercato del lavoro, che con una brutta espressione è stato definito duale, tanto grande è la differenza di condizioni nell'accesso al lavoro per i più giovani e per i meno giovani, con la disoccupazione giovanile cinque volte più alta di quella dei meno giovani. Fatto unico nel mondo occidentale. La nuova legge, la legge Fornero, indica come forma comune di assunzione il contratto a tempo indeterminato. Obiettivo condivisibile. È però un falso obiettivo perché la legge non lo ha perseguito. La legge Fornero sul lavoro ha peggiorato una situazione già gravissima. La legge Fornero è una legge da buttare. Un anno fa c'erano le condizioni per fare molto, ma molto meglio, prendendo in considerazione le opzioni che erano sul tavolo, che erano trasversali dal punto di vista politico. Una grande occasione persa. Questo è uno dei più gravi, se non il principale motivo, che giustifica la forte protesta giovanile, che si manifesta in modi nuovi, ma in modo forte e visibile, e che ha iniziato a condizionare le scelte e la vita politica del nostro Paese. Qualcuno dice purtroppo, qualcuno dice per fortuna. La legge Fornero prevede una verifica dopo un primo periodo di applicazione. La verifica purtroppo c'è stata, non funziona, va cambiata ed è urgente farlo. Chiedete a qualcuno di quelle migliaia di ragazze che hanno trovato fuori dall'Italia, lavoro, non trovandolo qui, di scrivere le nuove regole. Le regole che vanno bene per loro vanno bene per il Paese. Ci sono poi tutte le inefficienze del sistema Italia, più o più volte richiamate, che se risolte potrebbero rappresentare una formidabile leva della crescita. Il problema del livello di legalità e l'efficienza del sistema giustizia, problema facile da risolvere se solo ci fosse la volontà politica di farlo. Quanto costa alle aziende e a noi cittadini la mancanza di tutela quando abbiamo una ragione o un interesse da difendere? La burocrazia è inefficiente e costosa, ben rappresentata dalla classifica di doing business, con costi immensi per i cittadini e per le aziende in una spirale che si autoalimenta. I costi della politica, con 1.300.000 persone che in Italia vivono di politica e con 21 organi legislativi, uno per ogni regione. Il sistema politico che deve essere riformato, dando senso, rappresentanza efficace alla politica, iniziando da una nuova legge elettorale che da veramente troppo tempo aspettiamo. Una riforma delle politiche che dobbiamo assi tutto ai nostri ragazzi, che per primi chiedono, pretendono rappresentanza. La pubblica amministrazione che non paga i fornitori, accumulando uno scaduto di oltre 90 miliardi, ma fonti autorevoli parlano di cifre sensibilmente più alte. Un piccolo passo è stato fatto con il recente decreto, ma non basta. Allo Stato deve essere applicato lo stesso principio che si applica ai cittadini. Uno Stato serio non può far quadrare i conti non pagando i fornitori. Applichiamo la sollecitazione che ci arriva dall'Europa, dai commissari Rene e Tajani. Ormai tutti gli osservatori finanziari dicono che il pagamento del debito pubblico pregresso non produce alcun effetto negativo sugli spread del nostro debito, mentre sarebbe forse la più importante azione espansiva oggi possibile. Oltre un 4% di PIL che torna sul mercato nelle mani del legittimo proprietario. E poi il livello di tassazione per chi le tasse le paga, che ha ampiamente superato i livelli di equità di ragionevolezza. Con le imposte pagate per un'azienda pare al 68,3% contro, per esempio, il 37,3% di un'azienda inglese. Ovvero un'azienda inglese a parità di utile lordo pronunce un utile netto che è il doppio, sottolineo il doppio, di un'azienda italiana. Quelli che cercano i motivi della sottocapitalizzazione della media delle nostre aziende dovrebbero leggere questi dati. Le persone che lavorano nelle nostre aziende poi, dal punto di vista della tassazione, non sono state certamente trattate meglio. Abbiamo stipendi che costano mediamente le nostre aziende oltre la media europea e stipendi netti che sono sotto la media europea. Ed è necessario che ogni azione per la riduzione dei costi del sistema venga trasformata in riduzione del livello di tassazione prima del lavoro dipendente, oggi priorità assoluta, e poi del cuneo fiscale sul lavoro a carico delle aziende. Inoltre, i risultati dell'azione urgente ed indispensabile per recuperare l'evasione fiscale devono portare a un trasferimento immediato e equivalente a favore di chi le tasse le paga. Dobbiamo intervenire su ognuno di questi argomenti e intervenire presto. Tutti finalmente sottolineano che è vitale per il nostro Paese sostenere il settore manifatturiero. L'ho detto con energia anche il Presidente Letta alla nostra Assemblea a Roma. È convinzione finalmente condivisa che le aziende manifatturiere che hanno tradizionalmente alte percentuali di export possono cercare la crescita dove oggi è, spesso molto lontano da qui, e portarla nella nostra città, nel nostro Paese, attraverso nuovi ordini. Le inefficienze del sistema Italia che prima ho citato sono pesi che ci carichiamo nello zaino quando affrontiamo i mercati esteri. Saremmo molto più leggeri ed efficaci se nello zaino avessimo solo sinceri auguri. Questo vale per chi ha comunque l'opportunità di avere accesso ai mercati esteri. Mi sembra ora doveroso invece citare la situazione che si è creata per i settori che sono legati completamente per loro struttura al mercato nazionale. Mi riferisco in particolare al settore Dile. Per il settore Dile oggi si sommano le conseguenze di una serie di fatti. Il ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione, la riduzione dei redditi dovuta alla mancanza di lavoro, l'aumento della tassazione in generale e in particolare sulla casa, la tassazione dell'immobile e magazzino come se fossero in uso e senza alcuna eccezione per le permute, la mancanza di credito, la riduzione drastica degli investimenti pubblici, la riduzione drastica degli investimenti industriali. L'insieme di tutto questo assomiglia molto a una tempesta perfetta che ha portato ad avere nel primo trimestre dell'anno nella nostra città una riduzione preoccupante degli iscritti alla cassa Dile. Dal 2008 ad oggi si è passati da circa 5.000 addetti a 1.416. Si tratta di un dato veramente impressionante. Periodi di crisi fanno parte della vita delle aziende. Chi fa il mio mestiere lo sa, si attrezza, si prepara per affrontarle. Ma in questi anni tutto è stato fatto per aggravare la crisi del settore edile. Nulla è stato risparmiato, dimenticando che l'edilizia è essenziale per il nostro Paese e per la nostra città. Apprezziamo la volontà che ci è stata anche recentemente manifestata di un coinvolgimento diretto nell'elaborazione del PSC del Comune di Piacenza. Ci permettiamo di ricordare i contributi che anche più volte in passato la nostra sezione dei costruttori edili è avanzato in tema di rigenerazione della città, in tema di edilizia scolastica, nonché in tema di incentivazione verso il raggiungimento dell'efficienza energetica degli edifici. La profonda crisi dell'edilizia è un problema nazionale, un problema locale. Non possiamo ignorarla, dobbiamo farcene carico. Quindi tanti problemi citati e tante le opportunità di miglioramento che se praticate potrebbero creare quell'effetto espansivo diventato indispensabile, ma dobbiamo fare presto. Mi sembra ora doveroso rendere conto dei progetti avviati dalla nostra associazione negli ultimi due anni e dei risultati che hanno prodotto. Per primo cito il progetto che abbiamo chiamato Impresa Compiuta, che è nato per accompagnare la nascita di nuove imprese. È stato portato a termine con la concreta e efficace collaborazione della provincia di Piacenza, della Camera di Commercio, di Fidi Industrie, della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, della Banca di Piacenza e della Banca Popolare di Lodi. Ringrazio tutto di cuore e ringrazio la Vice Presidente Consuelo Sartori che ha accompagnato l'iniziativa per mano con grande tenacia ed affetto fino alla sua conclusione. Il progetto è giunto al termine e ha portato alla nascita di tre nuove imprese che oggi sono associate alla nostra associazione. Quindi una splendida conclusione. È con grandissimo piacere che vi presento tre nuovi colleghi. Chiedo per favore a Francesca Rossi di alzarsi. È titolare della Kinky, complementi d'arredo. Chiedo per favore a Danilo Mazzocchi di alzarsi. È titolare della Gastromania, composte dolci e salate con ricette inusuali. Chiedo per favore di alzarsi a Marcello Gandolfi e Daniele Quagliaroli. Sono titolari di Terre che si occupa di valorizzare il turismo e le tipicità locali. Rivolgo a voi un grazie di cuore. Vi rinnovo il benvenuto della nostra associazione a nome di tutti i colleghi. Ricordo il giorno della chiusura di impresa compiuta assieme a voi e ai funzionari delle banche finanziatrici dei progetti. Funzionari che in rappresentanza delle banche avevano seguito le selezioni e la formazione. Ricordo che ne è nata una condivisione tale che ha portato alla presentazione al pubblico dei progetti in coppia, l'imprenditore e il suo banchiere assieme. Non mi era mai successo di vedere un banchiere così partecipe, così addirittura affettuoso verso il progetto che avrebbe poi finanziato. È stato quasi commovente. Non avevamo dubbi che anche i banchieri avessero un cuore, noi lo abbiamo visto battere. Auguriamo ai nostri tre giovani colleghi più grandi successi. La nostra associazione è a vostra disposizione. Veramente, contate su di noi. E poi il progetto relativo alla scuola e lo sviluppo del rapporto scuola-aziende ha avuto importanti sviluppi. Abbiamo incontrato oltre 200 docenti. Abbiamo condiviso corsi di formazione mettendo a disposizione il contributo dei nostri esperti aziendali. Abbiamo condiviso con Lisi Marconi l'allungamento degli stagi aziendali da due settimane a due mesi. Abbiamo sottoscritto, sempre con questo istituto, un protocollo che abbiamo chiamato Sostieni una classe, attraverso il quale tutte le terze classi del prossimo anno scolastico verranno affiancate da un'azienda per i tre anni successivi fino alla fine del corso di studi. Le aziende si sono impegnate a mettere a disposizione gratuitamente per gli insegnanti i corsi di formazione aziendali, procedure manuali come strumento di studio, priorità per gli stagi formativi, testimonianze dei dirigenti aziendali e tanto altro. Si tratta un'idea nata dagli insegnanti dell'ISI che noi abbiamo sposato con entusiasmo e che svilupperemo nel tempo, possibilmente anche presso altri istituti. È partito il primo gruppo di aziende, altre hanno già dichiarato la loro disponibilità, tutto questo conferma la sensibilità e la disponibilità verso la scuola che nell'azienda è altissima, come ampiamente dimostrato da tante iniziative promosse autonomamente da aziende della nostra provincia. Lo scorso anno abbiamo annunciato il progetto dell'asilo nido a servizio della zona industriale dei casoni di Podenzano. Oggi il progetto è diventato una certezza ed è passato alla fase esecutiva grazie al contributo della Regione attraverso la provincia di Piacenza, grazie al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e grazie all'efficacissima attività del Sindaco Ghisoni. Speriamo di poter vedere entrare i primi bambini nella nuova struttura nel primo semestre del prossimo anno. Abbiamo voluto con questo sottolineare la vicinanza delle nostre aziende, le famiglie e i loro problemi. Abbiamo voluto sottolineare l'efficacia di zone industriali di dimensione adeguata, i casoni lo è certamente, alle quali è ragionevole e possibile affiancare adeguati servizi. Abbiamo annunciato un progetto Expo 2015, progetto di cui si è fatto carico il Vicepresidente Giuseppe Colla. Si tratta di un progetto complessivo di sistema che coinvolge tutta la nostra provincia, al quale la nostra associazione partecipa con convinzione e coinvolge tutte le istituzioni cittadine. Nell'ultimo anno il progetto, per varie ragioni, non ha fatto rilevanti passi avanti, anche se alcune significative iniziative hanno visto la luce, come il progetto Autogrill. Credo però di poter affermare che in questi giorni si siano create le condizioni per un netto salto di qualità. Siamo finalmente in grado di definire una squadra forte, autorevole e adeguata alla sfida, alle quali sono sicuro tutte le istituzioni e le associazioni piacentine daranno il loro supporto. Si può fare, si deve fare. Il nostro ente fieristico, Piacenza Expo, avrà certamente un ruolo di tutto rilievo in questa prospettiva. È indispensabile che Piacenza Expo venga difeso nel prossimo futuro da tentativi di scippo di importanti manifestazioni fieristiche che indebolirebbero un ente oggi sano, ben gestito e certamente indispensabile nella prospettiva Expo 2015. Per Expo 2015 non abbiamo quindi più tempo da perdere. Siamo ancora in tempo per fare un buon lavoro, cogliendo a pieno un'opportunità irripetibile per la nostra città a 60 chilometri da Milano. Abbiamo poi sviluppato due progetti con l'aiuto della Banca di Piacenza e della Banca Popolare di Lodi, utili ad affrontare i nodi dei crediti della pubblica amministrazione ancora bloccati nonostante la nuova legge e utili ad affrontare il problema degli immobili in corso di costruzione in un mercato che è bloccato dalla crisi. Contiamo nelle prossime settimane di arrivare a una definizione coinvolgendo, se possibile, anche altri istituti. Cito poi il progetto del collegamento ferroviario con Milano. È in qualche modo collegato Expo 2015 che ne rende più probabile la realizzazione. Oggi, grazie alla ricerca che il Politecnico ha condotto a cura del Professor Zanninelli, promossa dalla nostra Camera di Commercio, sappiamo che 2.600 persone tutti i giorni prendono il treno per Milano e sappiamo anche, prima lo supponevamo soltanto, che coloro che usano altri mezzi per lo stesso percorso sono tra due e tre volte di più. Diventa quindi molto più ragionevole sostenere che in presenza di un collegamento efficace sarebbe possibile raddoppiare il numero dei passeggeri. Per farlo in modo efficace, secondo la nostra analisi e secondo i tecnici che abbiamo coinvolto, sono necessari 33 treni in una direzione e 33 treni nell'altra che utilizzando il passante sotto Milano collegherebbero ogni mezz'ora la nostra città alle 10 stazioni della metropolitana milanese che si affacciano sul passante ferroviario. Si tratta di un progetto che segue le linee definite dalle ferrovie dello Stato già al momento della costruzione del passante ferroviario sotto Milano almeno 10 anni fa. Linee guida che vedevano spesso citata la città di Piacenza quale beneficiaria del passante. I nostri consulenti hanno definito un business plan del progetto dal quale risulta che è ragionevole ottenere un risultato economicamente positivo anche solo con il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti. Nei sei mesi dell'Expo un servizio come questo diventerà addirittura indispensabile e ancora più remunerativo visto il traffico aggiuntivo. Condivideremo questi risultati con tutti i riferenti e le istituzioni interessate, l'idea ha trovato per strada amici che la supportano. Credo si tratta del progetto che più potrebbe incidere sullo sviluppo della nostra città e della nostra provincia. Sono convinto che Piacenza abbia diritto a questo collegamento con Milano. In qualunque paese europeo lo avrebbe già, i piacentini lo devono pretendere. Nel corso dell'ultimo anno la nostra associazione ha aderito al progetto denominato Baia San Sisto, nato da un'idea dell'associazione Commercianti e dell'architetto Marcello Spigaroli, volta a recuperare alla città l'area oggi occupata dalla caserma Nicolai in Piacenza Cittadella. È nata un'associazione di scopo alla quale hanno aderito una larga rappresentanza delle associazioni datoriali piacentini. Uno degli scopi dell'associazione è creare le condizioni affinché Palazzo Uffici, con tutti gli uffici del Comune di Piacenza, possa avere la sua nuova sede presso gli edifici cinquecenteschi contenuti nella caserma. Sui progetti citati la nostra associazione ha fatto un lavoro intenso e ha coinvolto i vicepresidenti che mi hanno accompagnato in questi due anni. Ringrazio di cuore, rigorosamente in ordine alfabetico, Walter Alberici, Pinuccio Colla, Nicola Parenti e Consuelo Sartori. È stato un piacere lavorare con voi e poter contare sul vostro aiuto e sui vostri suggerimenti in questi due anni intensi. Senza di voi sarebbe stato impossibile portare avanti i progetti che abbiamo condiviso. Ringrazio anche i colleghi che hanno accettato la sfida dei prossimi due anni nel ruolo di vicepresidente, quindi Maurizio Croci, con la delega allo sviluppo dei progetti dedicati ai settori edile, scavazioni e materiali per l'edilizia. Marco Livelli, con delega al finanza e nuovi modelli di business e all'energia. Giovanni Rebecchi, con delega allo sviluppo del terziario esteso, Expo 2015 e settore alimentare. Assieme abbiamo di fronte due anni di lavoro intenso, sarà un piacere svilupparlo assieme. Ed è questa l'occasione per guardare il futuro e l'encarico ai progetti e quei fatti che spesso non dipendono da noi ma che spero si concretizzeranno durante questi due anni e che possono incidere positivamente sulle prospettive della nostra città e della nostra provincia. Ho citato poco fa la Baia San Sisto e quindi inizio dicendo che vorrei vedere nei prossimi due anni la posa della prima pietra degli uffici del Comune di Piacenza in Piazza Cittadella, nello splendido ex monastero di San Sisto, riportato a disposizione della città. Sarebbe veramente un bel modo per festeggiare 500 anni dalla fine dei lavori di costruzione del monastero di San Sisto e dalla consegna della Madonna Sistina dipinta da Raffaello. Vorrei poi che la città condividesse con il genio pontiero una collogazione adeguata che soddisfi pienamente le loro esigenze, che confermi la loro presenza e il legame storico con la nostra città. Avete trovato sulla vostra poltrona un inserto che ben testimonia la tradizione e la vocazione fatturiera della nostra città. Ebbene vorrei che nei prossimi due anni venisse definita per il nostro Comune Capoluogo e per la nostra provincia una politica industriale che riconosca questa vocazione e ne persegue lo sviluppo con atti concreti dal punto di vista urbanistico, burocratico, fiscale. Vorrei in particolare una politica delle aree industriali che abbandoni la soluzione delle innumerevoli aree piccole e disperse sul territorio, scegliendo dove e come fare industria con poche aree di dimensione adeguata e tali da giustificare tutti i servizi e le infrastrutture a contorno. Aree che applicando le regole esistenti dovranno essere attraenti anche dal punto di vista dei costi ma non solo per chi vuole restare sul nostro territorio e qui svilupparsi e per chi cerca un posto in Italia dove installare un'iniziativa industriale. Abbiamo la fortuna di essere logisticamente del posto giusto e visto che in ogni iniziativa industriale c'è un contenuto logistico, un'azione serie ed energica di promozione industriale basata sui fatti concreti potrebbe portare qui investimenti e crescita nell'interesse di tutti. È nostro impegno continuare a lavorare con l'assessore Barbieri che ha dimostrato grande sensibilità verso questi temi. Vorrei poi una burocrazia più efficiente e meno invasiva e la burocrazia senza dubbio anche locale. Abbiamo avuto segnali, aperture, dimostrazioni di attenzione al problema. È indispensabile che tutto questo si concretizzi infatti. La burocrazia italiana non trova uguali nel mondo. Lascio al nostro Presidente Esquinzi il compito di combattere questa battaglia a livello nazionale ma non ci sono dubbi che localmente tanto può essere fatto. Vorrei poi un settore logistico al quale viene riconosciuto il valore della nostra tradizione e viene quindi sviluppato non come un intruso ma come parte della nostra storia creando una logistica sempre più integrata, intelligente, a valore aggiunto. Una logistica integrata con la ferrovia, una logistica che si completa con tutti i servizi. Vorrei un dialogo ancora più forte con il Sindacato nel rispetto dei rispettivi ruoli ma che consenta di perseguire gli interessi comuni che sono tantissimi. L'accordo sulla rappresentanza siglato in questi giorni testimonia la ritrovata capacità del Sindacato di Confindustria di fare sintesi. La concertazione, quando siamo stati capaci di praticarla, ha dato frutti utili. È un metodo che deve far parte del nostro futuro. Vorrei vedere il collegamento a Milano con 33 treni al giorno, nuovi puliti, efficienti, puntuali, che usano il passante ferroviario, si incrociano con dieci stazioni della metropolitana milanese. Vorrei vedere una città che si propone all'esterno fino a giustificare, anche grazie al collegamento con Milano, un flusso positivo di nuovi cittadini che scelgono questo posto come posto dove vivere e crescere i propri figli. Vorrei una città che giochi la partita della formazione universitaria, promuovendo il ruolo e lo sviluppo del nostro polo universitario e delle sue eccellenze. Vorrei una città che giochi vincendola la partita di Expo 2015, ricavando nel lavoro nei sei mesi dell'Expo e prospettiva di crescita per il futuro. Vorrei vedere le scuole collegate con le aziende con un dialogo continuo ed efficace nell'interesse dei nostri ragazzi, con la scuola che insegna a fare impresa e propone l'impresa come una delle opzioni di vita. Vorrei vedere una città, una provincia dove gli eccellenti istituti tecnici che già esistono tornino ad essere la migliore opzione per i nostri ragazzi. Vorrei vedere una città e una provincia dove tutti finalmente ci accorgiamo di vivere in un posto splendido e dove tutti decidiamo di condividerlo con il resto del mondo attraverso il turismo. Tutto questo potrebbe cambiare in concreto la prospettiva delle nostre città, cambiare in meglio. Tutto questo si può fare, facciamo presto. Grazie. Ecco, adesso siamo tutti ansiosi di sentire il punto di vista e l'analisi del nostro Presidente Giorgio Squinzi, che prego di accomodarsi. Caro Presidente, autorità, amici, colleghi, è difficile intervenire dopo una relazione così esaustiva come la tua, dove hai fatto proprio un fuoco molto preciso su tutti i problemi e su tutte le opportunità che abbiamo davanti a noi. Io, peraltro, condivido assolutamente e pienamente la tua apertura, quella che richiama un titolo del nostro giornale, del nostro quotidiano, il Sole 24 Ore. Fate presto. Ecco, noi abbiamo bisogno di far presto in questo Paese, in questo momento. Perché è il tempo che comincia a mancare se vogliamo rispondere con efficacia di cui penso siamo capaci alle difficoltà che stiamo vivendo giorno dopo giorno. Non devo ripercorrere gli ultimi mesi. Sono stati difficilissimi, sia sotto il profilo economico che sotto quello politico. In questo momento cogliamo segnali di cambiamento. È ancora presto per parlare di una vera e propria svolta, ma da ottimisti come noi siamo, noi tutti imprenditori siamo ottimisti, perché se non fossimo ottimisti non faremmo gli imprenditori. Noi vogliamo credere che il clima stia cambiando. In Europa si sta parlando sempre più insistentemente di misure di rilancio della crescita e di lotta alla disoccupazione, soprattutto alla disoccupazione giovanile. Gli interventi della Banca Centrale Europea dovrebbero aver allontanato i rischi per l'Euro. Si sono ridotti i divari nei tassi di interesse, ma siamo per il momento ancora lontani dal valo di misure concrete per la crescita, che io mi auguro potranno arrivare con i vertici europei di fine giugno e inizio luglio, mentre la politica monetaria continua a funzionare in modo non corretto, come ha riconosciuto lo stesso presidente Mario Draghi. Ma resta comunque un defetto grave, quello che abbiamo detto, tutto è lento, troppo lento. E troppo lento rispetto alle sfide globali, troppo lento rispetto alla gravità della situazione economica, perché il mondo corre verso nuovi assetti produttivi e diventa sempre più competitivo. Tra l'altro la competizione ormai si fa tra grandi aree economiche e non più tra una nazione e l'altra. In questo scenario complessivo noi vediamo grandi aree economiche, grandi paesi come ad esempio Stati Uniti e Giappone, che adottano politiche coraggiose, forse anche temerarie, pur di sostenere le loro economie. E le economie emergenti si sono dotate di un'industria forte e proseguono imperterrite sulla strada dello sviluppo. L'Europa rischia di essere messa nell'angolo, la nostra economia si è di nuovo fermata, recessione e populismi sono stati aggravati dalle ricette adottate per fronteggiare la crisi. La stessa Germania, che si sentiva immone da tutti i mali, ne sta soffrendo. Voi sapete quanta importanza io attribuisco al progetto politico dell'Unione europea. Io sono un grande fautore negli Stati Uniti d'Europa, un sogno che penso si possa realizzare nel giro di qualche decennio e che è il punto d'arrivo fondamentale verso cui noi tutti dobbiamo tendere per assicurare un futuro alle prossime generazioni. Alcuni sono scettici su questa visione, ma l'Europa con l'Euro ci ha dato la riduzione della volatilità e la stabilità delle nostre economie. All'Euro e a un'Unione incompleta possiamo dare molte colpe, ma non quella di aver danneggiato la nostra competitività. La nostra competitività è mancata, ma le radici le dobbiamo ricercare al nostro interno, nel nostro Paese. L'Euro è un salvagente di cui noi abbiamo potuto usufruire in questo periodo. Da una proiezione del Centro Studi di Confindustria è emerso con molta chiarezza e con molta convinzione da parte dei nostri economisti che un'eventuale dissoluzione dell'Euro porterebbe per il nostro Paese a una riduzione nell'ordine del 25% del PIB, il che vorrebbe dire ritornare indietro in termini di benessere, di qualità della vita nel nostro Paese di almeno 30 anni. Oggi io credo che le leve della crescita vadano ricercate in un vero mercato unico in Europa, rilanciando gli investimenti e con una politica industriale innovativa e con una base comune. E la nuova crescita europea non può che essere basata sull'industria. La crisi ha dimostrato che il settore industriale è l'unica scommessa sicura per il futuro. E bene ha fatto la Commissione europea, nella persona del Commissario dell'Industria e il Vice Presidente Antonio Tajani, a indicare un obiettivo preciso per l'Unione europea, di rimettere l'impresa manifatturiera al centro di tutte le attenzioni, perché ritorni a rappresentare il 20% del PIB dell'Unione europea. In questo momento la media è al 15,7%, abbiamo Paesi più vicini, come l'Italia stessa, dove siamo vicini al 17%, ma abbiamo Paesi come la Germania che sono al 23-24%. Ecco, questo è un obiettivo giusto che noi dobbiamo perseguire con molta forza in Europa. E da qui viene l'urgenza di definire e applicare presto quello che possiamo definire un industrial compact, per migliorare la sinergia tra le azioni europee e le politiche industriali degli Stati membri. E questo, a un anno dalle prossime elezioni europee, a un anno praticamente dall'avvio del semestre di Presidenza italiana, noi dobbiamo lavorare tutti con decisione su questi fronti. Se torniamo al nostro Paese, noi da circa un mese abbiamo un governo a cui deve andare tutto il nostro sostegno, perché abbiamo assolutamente bisogno di stabilità politica. È un governo fatto da chi ha dimostrato responsabilità e buona volontà e che è nato grazie all'impegno e al senso dell'istituzione del nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a cui io e credo anche tutti noi dobbiamo un grande applauso. La tregua politica può apparire fragile, ma noi ne confermiamo la necessità assoluta per affrontare la modernizzazione e portare il nostro Paese fuori dalla crisi. È considerato l'esito della stagione elettorale e la stagione di conflitti che abbiamo alle spalle, il Governo in carica è un buon risultato e al Presidente del Consiglio di cuore dobbiamo fare auguri di buon lavoro. Confindustria, però, non smetterà di incalzare il Governo e il Parlamento con responsabilità e concretezza perché siano adottate tutte le misure necessarie per ritrovare la crescita economica nel nostro Paese. Concentriamoci sulle politiche di ampio respiro necessarie a costruire il futuro del Paese. Non possiamo cedere al pessimismo o a divisione figlie di interesse di parte, forse legittimi, ma che chiudono spazi di manovra già stretti. Occorrono interventi per alleviare la sofferenza sociale ed evitare di distruggere quello che abbiamo con fatica costruito in tanti decenni di impegno e di intelligenza in questo secondo dopoguerra. La reddittività delle nostre aziende è stata profondamente erosa. La tenuta del tessuto sociale è messa a dura prova. I posti di lavoro negli ultimi anni sono calati di 1 milione e 400 mila. L'occupazione è diminuita pericolosamente, crollata tra i giovani, i disoccupati sfiorano i 3 milioni e troppe famiglie stanno rinunciando a spese fondamentali come le cure mediche. Ma l'Italia non dimentichiamolo era in crisi prima di questa crisi seguita all'esplosione delle bolle finanziarie. Dal 1997 al 2007 il tasso di crescita dell'economia italiana è stato inferiore di circa un punto all'anno alla media dei paesi dell'area euro. Per questo noi dobbiamo avere un solo, unico obiettivo, tornare a crescere. E per tornare a produrre più benessere l'Italia deve fare leva sulla sua risorsa più importante, la vocazione industriale, che qui a Piacenza ha una dimostrazione vitale, importante, grazie al vostro impegno quotidiano. So che, in ossequio alle tradizioni della vostra terra, voi non mollate e non mollerete mai. E di questo vi ringrazio e vi incoraggio. Confindustria è e sarà sempre al vostro fianco. L'industria è il motore del nostro sistema, l'unico in grado di reattivare il resto dell'economia, perché acquista beni e servizi prodotti anche dagli altri settori. Dall'industria italiana viene il 17% del PIL, il doppio se consideriamo l'indotto, l'80% dell'export del Paese, la maggior parte degli investimenti in ricerca e di innovazione e la creazione di posti di lavoro più qualificati e meglio retribuiti. Di manifatturiero vivono 8 milioni di famiglie nel nostro Paese. Questi sono numeri che non si possono ignorare. Allora, come ripartire? Domanda e competitività sono le due leve su cui bisogna agire per ritrovare la strada della crescita. Serve una netta discontinuità con le logiche di breve respiro che hanno ispirato molte delle politiche del passato e le imprese saranno pronte a rispondere con investimenti e occupazione. Confindustria insiste da tempo per misure concrete per l'aumento rapido del tasso di crescita e dell'occupazione, partendo da una vera politica di qualità del bilancio pubblico, di ricomposizione delle entrate e delle uscite, in modo da promuovere la crescita senza intaccare la solidità del bilancio stezzo, anzi rafforzandola proprio grazie a una crescita più elevata. Senza interventi decisi e concreti, la crescita del Paese non supererà per molto tempo lo 0,5% anno, del tutto insufficiente a creare lavoro e a risollevare i destini di tantissime imprese. Se questo Governo punterà sulla crescita, noi lo sosterremo con tutte le nostre forze. Senza crescita non c'è maggior lavoro e la mancanza del lavoro è la madre di ogni male sociale. La competitività va affrontata in maniera strutturale e con equilibrio, intervenendo sul costo, sulla produttività e sulle regole, come Confindustria ha fatto venerdì scorso firmando l'accordo sulla rappresentatività con i sindacati per aprire la strada ad una nuova stagione di relazioni industriali. Un accordo che ha forse valore storico, ma sicuramente dà una prospettiva. Si pone fine a una stagione di frammentazione e si garantisce piena esigibilità ai contratti di lavoro e si creano le condizioni per un dialogo tra le forze sociali per il rilancio della produttività, del lavoro, della crescita e un welfare innovativo. E abbiamo ottenuto questo risultato con un lavoro serio, metodico, di mediazione alta, senza clamore mediatico. Questo è il nostro metodo, fatti e non parole. Da Paese manifatturiero non possiamo permetterci la differenza di competitività rispetto ai Paesi nostri concorrenti. In Italia, da anni, il costo del lavoro sale, in Germania scende. Le nostre imprese pagano di più, i nostri lavoratori guadagnano di meno. Il cuneo fiscale nel 2012 è stato di oltre il 53% del costo del lavoro, tra i più levati nell'area Ocse. Questo vuol dire che più della metà di quanto le imprese pagano i lavoratori finisce nelle casse dello Stato. Ecco, bisogna ridurre questo cuneo, eliminando il costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, tagliando di almeno 11 punti gli oneri sociali che gravano sulle imprese manifatturiere. Il mercato del lavoro è troppo vischioso e inefficiente. Occorre più flessibilità in ingresso e nell'età del pensionamento per favorire il ricambio generazionale. È positivo che il Governo abbia dichiarato di voler intervenire e prendere seriamente in considerazione le ragioni delle parti sociali. Siamo in attesa della convocazione per sottoporre le nostre idee e le nostre ragioni. Ma domanda e competitività intersecano il tema cruciale della liquidità e dei credit crunch. La situazione del credito è così difficile che rende quasi impossibile non gli investimenti ma l'ordinaria gestione delle imprese e ne mette in pericolo la sopravvivenza e di primaria importanza l'emissione di liquidità nel sistema. Lo stock dei prestiti erogati alle imprese è calato di oltre 50 miliardi negli ultimi 18 mesi, un taglio senza precedenti nell'ultimo mezzo secolo. Quasi un terzo delle imprese ha liquidità insufficienti rispetto alle esigenze operative quotidiane, spicciole. Dobbiamo contrastare la terza ondata di credit crunch. Per questo guardiamo con attesa e con interesse alle misure annunciate dalla Banca Centrale Europea per sbloccare il mercato del credito. Per questo abbiamo chiesto l'immediato pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese. Noi avevamo chiesto 48 miliardi sui 71 miliardi che erano stati individuati dalla Banca d'Italia al 31 dicembre 2011. Il numero reale noi tutti supponiamo sia molto più alto, sia nell'ordine dei 120-130 miliardi. Abbiamo avuto un grande supporto ancora una volta dal Presidente della Repubblica che ha sostenuto con forza la nostra posizione. Noi vogliamo recuperare al più presto l'intero debito commerciale della pubblica amministrazione. Oltre che rendere subito operativa è disponibile la somma che hanno già stanziato, che si parla per il momento di 40 miliardi. Ecco, è uno Stato, una pubblica amministrazione che non paga i propri fornitori non è degna di un Paese civile. A livello nazionale è necessario potenziare gli strumenti esistenti e lavorare con le banche a un nuovo accordo sul credito per sostenere le imprese in questa delicata fase congiunturale, ponendo le basi per uno sviluppo futuro. Il Sistema Nazionale delle Garanzie può giocare un ruolo determinante. Va ulteriormente potenziato il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, uno strumento essenziale per sostenere l'accesso al credito. Noi abbiamo un rapporto continuo e collaborativo con l'Associazione Bancaria Italiana e ci aspettiamo di poter raggiungere dei risultati concreti nelle prossime settimane. Bisognerà puntare comunque anche allo sviluppo di canali alternativi al credito bancario e al riforzamento patrimoniale interrotto dalla crisi. Questo richiederà il rilancio del mercato dei capitali e la piena consapevolezza delle imprese che nel cammino verso la ripresa non potranno comunque prescindere dal rafforzamento della propria struttura patrimoniale. Siamo poi in attesa, a breve, un problema che tocca tantissimi di noi, che vengano riviste le regole del concordato in continuità, che sono diventate una via per scaricare i debiti sulla catena produttiva e continuare indisturbati l'attività. Questo comportamento immorale sta provocando crisi aziendali a catena, con effetti devastanti per l'intero sistema economico. E questo è stato citato in modo particolare nel mondo delle edilizie, nel mondo delle costruzioni, come è stato più volte ripetuto anche prima di me, è il settore che sta attraversando la più grave crisi in questo momento. L'intervento del Governo, prima dell'economia, lo impone l'etica. E la crescita e l'occupazione passano dal rilancio degli investimenti, soprattutto in ricerca di innovazione. Servono misure automatiche di detrazione, occorre agevolare il rinnovamento tecnologico e ridurre i tempi di ammortamento. Dobbiamo far ripartire, ed è stato chiesto anche dal Presidente Bolzoni, gli investimenti in infrastrutture, aumentando le risorse destinate a questa spesa, incentivando gli enti locali alla realizzazione delle opere pubbliche, modificando assolutamente le regole del patto di stabilità interno. E non possiamo permetterci un costo dell'energia elettrica mediamente superiore del 30% rispetto ai nostri concorrenti europei. È un fronte su cui siamo fortemente impegnati. Sul versante del gas siamo riusciti ad allineare il prezzo ai livelli medi dell'eurozona e a riequilibrare le componenti parafiscali, interventi che valgono grossomodo 1 miliardo e 700 milioni di euro e, se resi strutturali, rappresenterebbero un importante recupero di competitività. I risultati delle nostre imprese sui mercati esteri hanno sorretto l'intera economia nazionale e nella vostra provincia voi lo sapete bene. Ma questo non basta. Abbiamo ampi spazi di miglioramento e di acquisizione di nuovi mercati. Occorre estendere la base delle imprese manifatturiere esportatrici in modo stabile, con una particolare attenzione alle piccole e medie imprese, rafforzando l'attività del lice in stretto rapporto con le necessità del sistema produttivo. Quello che vi sto dicendo è un libro dei sogni? No. È il progetto di Confindustria per il Paese, che abbiamo presentato alle forze politiche lo scorso febbraio, prima delle elezioni, ricevendo ampi consensi. Un modello economico basato su numeri che nessuno ha contestato e che permetterebbero al PIL di tornare a crescere del 3%, con il conseguente aumento del dato occupazionale che alla fine del 2018 si situerebbe in 1 milione e 800 mila nuovi posti di lavoro. E le nostre indicazioni di politica economica, che non vi ripeto, che non ripercorro, perché sono certo che molti di voi le conoscono, vanno però rese solide nel tempo. E questo sarà possibile solo se saranno sostenuti da un Paese moderno, un Paese normale, un Paese che funziona, riforzando la burocrazia e la giustizia, migliorando l'istruzione, potenziando le infrastrutture, cambiando in maniera virtuosa il titolo quinto della Costituzione e trasformando in modo deciso il rapporto con il fisco, inaccettabile in questi ultimi anni. Ognuno di noi nel merito credo abbia una vicissitudine da raccontare. Ed è importante che il Governo abbia accolto la nostra proposta di riprendere la delega fiscale, la cui approvazione era stata interrotta dalla fine della passata legislatura. Tutti voi ricordate che al centro del mio programma quadriennale per Confindustria avevo messo la semplificazione normativo-burocratica del Paese. E sulla semplificazione, per dare un segnale concreto, ho già inviato a Palazzo Chigi e ai ministri più coinvolti un pacchetto di proposte. Contiene misure che incidono su alcuni degli aspetti più sensibili per chi fa impresa. Cominciamo da queste semplificazioni e daremo l'idea che nella ragnatela dei vincoli qualche nodo si può sciogliere. Da poi affrontata con decisione la questione settentrionale, la sua perdita di connessione con la dimensione europea e la sua crescente difficoltà di integrazione nel ristretto novero delle regioni industriali forti del nostro conconente. Abbiamo conosciuto il Nord Italia come una realtà in continuo movimento e in crescita. Ora il motore di questo straordinario sistema produttivo batte in testa e manda segnali di allarme che non possono essere ignorati. Per ritornare al Nord trainante le vie sono quelle che abbiamo detto. Credito, fisco, giustizia, semplificazione, infrastrutture. Uno Stato amico, cioè un ambiente in cui l'impresa può crescere senza ostacoli e competere a darmi pari con i concorrenti. Ho usato, se volete, il termine forte di baratro perché vivo, come voi, ogni giorno questa crisi e sono fermamente convinto che da questa si esce tutti insieme, ognuno con il proprio peso e le proprie responsabilità. È come il corpo umano, se una parte si inceppa tutto il sistema ne soffre, in alcuni casi irreparabilmente. Gli strumenti ci sono, serve volontà e concretezza, che sono certo troveremo nelle azioni di governo sia nazionale che regionale. E qui lasciatemi sottolineare, ho compreso con molta precisione l'importanza che io condivido, peraltro per essere stato uno dei fautori dell'acquisizione di Expo per la città di Milano di Expo 2015. Credo che la vostra provincia, anche considerando il tema di Expo 2015, Feeding the Planet debba essere in prima linea per la vicinanza a Milano, ma soprattutto per l'eccellenza del vostro sistema agroalimentare e per le attrattive che il vostro territorio può senz'altro offrire a tutti i visitatori che verranno qui da noi. Abbiamoci alla conclusione parlando un attimo anche di Confindustria. Qualcuno ha scritto che non facciamo che lamentarci. Considerando le condizioni in cui siamo costretti a lavorare, se ancora siamo il secondo Paese manifatturiero d'Europa, il secondo Paese manifatturiero al mondo in termini di valore aggiunto pro capite, il settimo al mondo per volumi complessivi, forse lamentarci non è la nostra attività principale. Contribuiamo per quasi il 18% al PIL, l'Expo della manifattura italiana vale 500 miliardi all'anno, le nostre imprese lottano su mercati sempre più difficili e reagiscono alle sfide con l'innovazione, guardano a nuovi clienti, studiano nuovi prodotti per nuovi consumatori. Ed è grazie a voi se l'Italia è un player nell'innovazione globale. Ultimamente su Confindustria si sono scritte e dette molte inesattezze e alcune critiche, a volte anche condisivibili. Non si è scritto però che Confindustria è stata e sarà una casa in cui il confronto è regola. Un'organizzazione ad adesione volontaria che viene scelta da chi aderisce perché crea valore con le proprie azioni, crea valore per gli associati e per tutto il Paese. Non temiamo il confronto né di ripensare il nostro modello organizzativo. La Commissione Pesenti, che io ho fortemente voluto, sta lavorando con cura alla riforma dell'organizzazione, portando a valore comune il meglio del sistema. L'obiettivo è quello di innovare la nostra organizzazione con regole e moderni di governo più leggeri, più veloci, tagliando le spese improduttive, costruendo una rete delle intelligenze e delle specialità al servizio delle imprese. Il metodo non è un'imposizione dall'alto, ma la costruzione di un modello organizzativo basato sul consenso, ascoltando coloro che vivono la quotidianità delle nostre associazioni. Quella di coinvolgere ed ascoltare è una mia scelta. La nostra azione deve essere a tutela di tutto il tessuto industriale e dei servizi ad esser integrati. Mai le esigenze e i desideri di singole imprese o specifici settori. Così interpretiamo il nostro ruolo di rappresentanza del mondo produttivo. Noi non siamo casta, potere forte o debole, che sia, salotto più o meno buono. Noi siamo la casa del capitalismo reale, quello produttivo e dell'innovazione. Abbiamo la certezza che il Paese cresce grazie alla sua industria e questa cresce se i suoi interessi sono rappresentati con competenza e determinazione. Io credo profondamente nelle migliaia di imprese che sono il tessuto vivente di Confindustria, piccole o grandi che siano. A tutte, indistintamente, dedico le mie energie perché possano crescere, conquistare nuovi mercati, dare lavoro, costruire benessere. Questa è la mia come la vostra missione. Per questo stiamo tutti assieme, per questo partecipiamo alla vita di una grande organizzazione come Confindustria. Viviamo tempi difficili, ma uniti e con l'impegno di tutti sono certo sapremo affrontarmi e sapremo venirne fuori. Buon lavoro a tutti noi. Grazie. Questa è proprio l'eccellenza della vostra terra. Grazie. Bene, con la relazione del nostro Presidente Squinzi finisce qui la serata, finisce la nostra assemblea. Ringrazio tutti e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.